I beni immobili, aziende e rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 250 milioni di euro ritenuti riconducibili a esponenti del clan Galatolo sono stati sequestrati dalla DIA Palermo. Il provvedimento della sezione misure e prevenzione del Tribunale ruota intorno alle attività legate al mercato ortofrutticolo e al suo indotto. I beni sequestrati, secondo l'accusa, sono riconducibili a cinque palermitani ritenuti vicini e contigui a Cosa Nostra ed in particolare al clan dei Galatolo. Sono Angelo e Giuseppe Ingrassia, entrambi di 57 anni, Pietro Lafata di 81, Carmelo e Giuseppe Vallecchia di 74 e 53 anni. Dalle indagini della DIA è emerso che i cinque titolari di vari stand all'interno del mercato ortofrutticolo ne monopolizzavano l'attività anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dalla cooperativa carovana Santa Rosalia, come la compravendita di merce, facchinaggio, parcheggio, trasporto e vendita di cassetti di legno e materiale di imballaggio. Per gli investigatori il controllo era tale da permettere a una regia occulta di prestabilire il prezzo dei beni posti in vendita a cui gli operatori del settore dovevano uniformarsi. Ma sarebbe stata anche in grado di controllare il trasporto su gomma da e per la Sicilia occidentale e di principali mercati di approvvigionamento delle derrate alimentari del centro Italia e di gestire le attività connesse al commercio svolto all'interno del mercato stesso ad opera di Cosa Nostra. A sostegno dell'accusa nell'indagine sono confluita anche convergenti dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia. Fra i beni sequestrati dalla DIA ci sono 20 immobili tra terreni, appartamenti e box, 13 aziende, 14 veicoli e numerosi rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 250 milioni di euro. Grazie.